Sei rientrato giovedì dopo uno stop molto lungo, come sono state le sensazioni a rientrare in gruppo? Direi che sono state positive, già al giro dell'Apennino e adesso in questa gara tappe è quello che mi ci vuole per rifinire un po' la condizione, per ritrovare il giusto colpo di pedale, perché comunque mi sono donato bene ma quando si corre è un'altra cosa, perciò sono qui ancora un po' per testarmi, per vedere un po' le sensazioni come sono e valutiamo giorno per giorno. Oggi a differenza dell'Apennino è una tappa da one shot one kill, una salita sola, chi ne ha di più vince tappa e corsa? Sì, sicuramente, anche se comunque ci sono ancora delle belle tappe dopo, non sono da sottovalutare, certo che oggi penso che sia quella che fa più distacchi e si vedranno sicuramente i protagonisti, i vincitori di questa corsa. Abbiamo visto ieri che anche i tuoi ragazzi hanno corso davvero bene, avete fatto anche dei buoni risultati. Sì, abbiamo una buona squadra affiattata e vediamo, insomma, di farci vedere ogni tappa, ecco, magari oggi forse è un po' dura per loro però ci sono anche altre belle tappe e cerchiamo soprattutto di farci vedere ogni giorno. Grazie Davide.